No, le volevo fare solo una domanda, siccome ho fatto una serie di servizi, la domanda è questa. Allora, la legge sul vitalizio di ferito è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale. La domanda è, lei intende usufruirne di questa legge oppure no? No, assolutamente no. Io non sono uno di persone, io non sono uno di firma data. Sì, però adesso la legge è a tutti gli effetti valida, quindi nessuno le vieterebbe di usufruire. Non ho già una pensione del mio lavoro, non ho bisogno di 200 euro. No, vabbè, io non faccio i conti in tasca di 200 euro, eccetera. No, le sto dando la motivazione, sono fatti i conti miei. E ascolti, e questo dietro front di un po' di tutti, secondo lei perché? Non c'è da chi lo ha fatto. Ma per lei è valida come legge? Secondo lei era il momento giusto questo di... Ancora ci hanno chiesto tutti i capogruppi di firmarlo e l'ho filmata pure io. E il fatto che Pippo Callipo dice che non sapeva il contenuto, le è sembrato strano? Eh, lo chieda a Pippo Callipo. Eh, lo so, però... Non posso parlare mediano? No, certo, ha ragione, no, ha ragione. No, però sai che... Non crede. Assolutamente. Non posso parlare per cosa di un altro che so. No, quello sì. E poi, un'ultima cosa, la legge si illustra da sé, però non crede che magari chi segue la casa, magari il cittadino normale... Ma io non ero il relatore della legge, non so, mi hanno chiamato, non ho capito a noi di quale legge si trattasse, non sono il relatore della legge. Quindi non era il relatore lei, in effetti? No, assolutamente no, nei redimitati non c'è il relatore di Giuseppe Graziano. Passiamo alla votazione della legge nel suo complesso con autorizzazione al coordinamento formale. Favorevole, contrari, astenuti, il provvedimento è approvato con autorizzazione al coordinamento formale, all'unanimità dei presenti. Grazie. Grazie.